Siamo tornati con Azzur Lane. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. . . Grazie a tutti. . 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 Dovrebbe apparire boss adesso. Yes. 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 Che giro sta facendo. Oh. Oddio. Dopo tutti questi anni che guardo gli anime e qualcosina. Speravo di sapere di più veramente. Però. Avessi tempo libero. Studierei sicuramente un pochettino di Jap. Anche su duolingo. Anche sul duolingo. öh. Ja. Va a incontruire dell'otta a questo. È stato concchile in questa forma. Anche sul duolingo. Ho ragazzi. Boss La cosa bella è che quando ci sono i boss Parte questa team Che fa tantissimo Toho In più sempre Durante questa musica la Toho Abbiamo Si chiamano le flagship No i boss Abbiamo degli attacchi veramente la Toho Solo con i boss appunto Questi spari A pallina rossi no Che chiaramente devi evitare Noi Bombardamento Abbiamo vinto Eh, in questo caso soprattutto, sì Dov'è fare commander level 20 per potenziare questo Non mi fa troppo ridere il nome di lei Cavalla È finito l'evento bootlop Io ci provo Ovviamente Ho provato a prendere Cinque copie poi ne davano Non mi fa troppo ridere il nome di lei Non mi fa troppo ridere il nome di lei Non mi fa troppo ridere il nome di lei Ok, io penso possiamo fare missioni O meglio, le commissioni O se no, qualche daily raid si può fare Oh, questo abbiamo già fatto Facciamo le commissioni qua Questa, assolutamente questa Almeno una level 10 ship Questa, assolutamente questa Troppo bella Troppo bella trance Questa, assolutamente questa Questa, assolutamente questa Ok, abbiamo messo due commissioni E possiamo passare a fare qualcos'altro Siccome adesso sono stanco Se facessi Alien penso mi bloccherei Ok, a questo punto tanto vale provare così per sfizio a fare un pezzino di Un pezzino di Di blasphemous Così, tanto per fare qualcosa di diverso Troppo stanco Sono anche bloccato Abbiamo anche fatto una pescata E non riuscito a fare un pezzino di E poi abbiamo Si vede blasphemous E poi abbiamo fatto un pezzino di Questo è perché non è partito ancora Partito o non è partito Una partita E poi abbiamo fatto un pezzino di 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 Ok, blasphemous ci ha dato segni di vita Si vede Lo stream Si Pare di zii Perfetto bro Grazie Grazie Ultimo desiderio Vogliamo dell'olio bollente in faccia Mi sembra giusto Gran gioco L'avevo già detto È un gioco questo Non potevo capire Finché non lo Finché uno non lo installa Non può capire Per essere in pixel art è veramente fluidissimo Si Assolutamente si Da l'idea che tutto è smooth Tutto è fatto bene Bello Castelvania e Diablo Gli vogliono bene questo gioco Andiamo avanti Ah qua c'erano questi cosi pericolosissimi Beh si è una lettera d'amore a Castelvania Diablo dai Per me Oh chi è questa Oh Aia Madonna che sassata Siamo morti Eh eh Strano Ma Com'erano i tasti per curarsi Ah 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 Ok, L1 L1 la cura L1 la cura L1 la cura Ok, abbiamo capito come battere questa strega L1 la cura Se vogliamo andare qua a sinistra Graveyard of the Peaks Posso prendere potenziamento del plunging attack adesso? No No, I can't Non ho capito se le stalattiti fanno danno come su Castelvania oppure sono scenari Ehm, no, per ora no I stalattiti non mi hanno fatto male Per ora no Ehm, però sicuramente Castelvania saprà essere molto infame Mercante? No Ehm, non ho capito? Ehm, la signora è molto... molto gentile, però in realtà ci chiede anime per queste cose Figo, questo ti fa vedere la vita dei nemici Troppo bello Eh, quasi quasi sì Ehm... 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 No problem bro Tra poco vado a letto anch'io penso Faccio giusto... un giretto qui su... su Blasphemous e poi mi vado a nanna Grazie a essere passato Grazie a essere passato e... ci aggiorniamo domani Io Buonanotte No problem A domani Midman facci una felice Io man Buonanotte Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie. Siamo tornati ad albero. Grazie. Questo cancello? Buongiorno? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.